3,2,1 comincia la challenge sono il cocodrilo della lava venite giù ciao a tutti benvenuti in questo nuovissimo video io sono erika e io sono Vanessa e io sono erika perchè la bici è grande e io è piccola ma quando sarai il mio compagno questa sarà la mia bici erika mi comprerò un'altra bici grandissima hai ragione amore come vedete la vita di Vanessa è piccolina non è vero sono grande si sei diventata ma quanti anni farai? 4 4 anni sei pronta? e io farò 6 Anna cosa Anna? io farò 6 e dopo 7 dopo 8 dopo 9 e dopo 10 e io farò 3 anni che domani io prenderò ma non li prenderò 3 anni di nuovo ma io voglio prendere la bici come di erika si certo io voglio una piccola bici ma si fa così si ho capito ho capito ho capito ho capito tutto chiaro ragazze quando vediamo adesso? dove si va oggi? al parco al parco pimi e cosa faremo? che video faremo oggi? il pavimento è lava il pavimento è lava non voglio metterle si faremo una challenge al parco giochi la lava è pericolosa sarà molto molto divertente è vero è vero sarà pericolosa se cadi giù nella lava perdi ma certo così sei morta così vai giù 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 ok adesso ci teletrasportiamo al parco giochi si andiamo va bene vai 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 ragazzi oggi è una giornata bellissima con tanto sole e caldino arriva la primavera e noi siamo contentissime a voi vi piace il sole e vi piace la pioggia? scrivetecelo giù nei commenti cuoricini prima di continuare a guardare questo nuovo divertentissimo video non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Erika e Vanessa attivate sulla campanella e lasciate tantissimi pulicini su a dopo ed ecco qua ragazzi sono subito affondate e adesso si 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 dalle spalle si dalle spalle si ma non vuoi qua davanti eccoci ragazzi fra poco comincia la challenge preparatevi preparatevi va bene conoscete le regole del gioco? si non andare giù se andrete giù perderemo la challenge e finirete di brutto perché la lava è brutta è volente come vedete i coricini sono lì sopra siete pronte per cominciare questa challenge ok 3 2 1 comincia la challenge state molto molto attente non dovete andare giù il pavimento è lava e vi dico una cosa ragazze mi sentite io sono il cocodrilo della lava dovete scappare ciao ciao buongiorno belle bimbe buongiorno mi presento sono il cocodrilo della lava e vi voglio prendere vi voglio girare i piedini dai venite qua venite qua oh sì volete venire giù dal scivolo io vi aspetto qua giù vi aspetto proprio lì e se venite giù vi mangerò vieni qua venite bene bimbe c'è una più una caramella volete mangiare una caramella andiamo a mangiarla dai dai venite giù venite giù voi sir ciao ciao io come vieni la lama vieni vieni qua c'è la lama vieni che ti voglio mangiare vieni vieni qua da me vieni qua da me vieni vieni in 0 diplomacy dove è andata la tua sorellina e ma io arrivo da voi ecco che arriva il coccodrillo arriva il coccodrillo no stanno scappando sta arrivando il coccodrillo che vi vuole prendere e vi vuole mangiare sono vicino ma che buon gusto avrà questa dammi vieni a fretta vieni venite qua venite venite qua da me che vi prendo vi prendo e vi mangia mangiano tutti questi vieni qua vieni vieni l'è andata l'aerica dove è andata l'aerica è già su c'è la lava giusta là c'è attenzione vengo a prendervi sì guardate che questa challenge mi sa che l'avete persa siete andate giù dove era la lava eh sì guardate sconta ma c'è giù per terra ma dove sono che non li vedo dove sono nascoste che il cocodrillo sta arrivando li ho viste eccoli lì li vedete anche voi andiamo a mangiarli un piedino vediamo un piedino e tu cosa stai facendo e ti mangio un piedino un piedino della faccia c'è la lava è andata guardate ragazzi che lì si sta nascendendo l'aerica avete perso avete perso questa challenge il cocodrino della lava ha vinto la challenge perché? perché guarda giù è tutto lava il pavimento è lava la terra assolutamente e tu sei senza bicicletta è anche la vanessa è lì da qualche parte vediamo cosa sta facendo la vanessa cosa stai facendo vanessa? le pappe cosa? anch'io le pappe si con i fiori si che belle ma sono così carine li portiamo a casa? si per papino si allora andiamo a casa perché ho una fame da lupo si da lupo e da coccodrillo anche da coccodrillo perché? perché non sono riuscita a mangiare queste bambine ma si è andata giù avete perso questa challenge si avete perso questa challenge intanto io direi che ci siamo divertite tanto cuoricini speriamo che questa challenge vi sia piaciuta e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di mettere tanti like muovatelo ciao ciao ci vediamo al prossimo video vi mandiamo tantissimi bacini e tanti cuoricini